Beh diciamo che internet ha cambiato la mia vita e non di poco, mi ha aiutato a pubblicizzare la mia immagine, mi ha aiutato il web con i suoi strumenti a poter essere un produttore musicale cinematografico indipendente, mi ha aiutato a sviluppare dei metodi nuovi di comunicazione e mi ha aiutato ad avere tanti vantaggi sui miei acquisti. Però sicuramente come tante realtà il web ha i suoi pro e i suoi contro perché il web offre una miriade a mio avviso di opportunità e molte volte io mi devo tutelare da quelle negative. Da che mondo è mondo però è sempre stato così anche nella vita reale quindi di conseguenza non credo abbia colpe il web ma che sia nel complesso uno strumento valido ed efficiente che è fortuna di pochi però sicuramente di aiuto alla nostra vita quotidiana quindi più utilità che non negatività. Ciao